Buongiorno e benvenuti alla sedia stampa di oggi, venerdì 30 giugno, l'ultimo giorno di giugno, il giorno in cui paghiamo le tasse, almeno per chi oggi le paga e non scappa all'estero. Vediamo subito quali sono le notizie di giornata. Ovviamente il blocco navale, quello minacciato dall'Italia sull'immigrazione che non riusciamo a controllare, oggi fa un passo avanti, cioè il passo avanti è quello del nulla di fatto. L'Europa ha sentito la minaccia italiana e ha fischiettato facendo finta di nulla. Oggi però sui giornali, vi faccio un esempio sul Corriere della Sera, un pezzo di Fubini, inizio a leggere delle cose che avevo sentito spesso in televisione, che però non venivano da chi venivano dette, venivano considerate delle bagianate. E cioè che quando le ONG che battono bandiera tedesca, francese, spagnola, potrebbero portare coloro che salvano in zone e porti più sicuri oltre a quelli italiani, come quello di Malta, come le Baleari, come in Corsica. Insomma, non riesco a capire per quale motivo soltanto oggi scopriamo quello che invece già era nella logica, e cioè che non c'era soltanto l'Italia come porto di approdo. Poi un'altra domanda che mi pongo, visto che si sta parlando di questo blocco dei porti, ma se noi abbiamo raccontato la marina italiana come quella, la marina eroica, di fuoco a mare, cioè il vero gesto della marina nostra non era un gesto militare, forte, aggressivo, quello che non piace alla sinistra, era un gesto umanitario, da ONG, che salvava i bambini, eroicamente salvava migliaia e migliaia persone dal loro destino drammatico. Adesso vi immaginate la marina italiana che blocchi i porti, la stessa marina che abbiamo osannato perché salvava i bambini e li portava a bordo, adesso dobbiamo cercare di pensare e immaginarla, l'abbiamo raccontata così gli ultimi 4-5 anni, adesso dobbiamo immaginare che la stessa marina invece faccia la dura, cioè non faccia traccare dei porti italiani, le barche dei disperati, immaginatevi Saviano, Repubblica, tutti quelli che fanno i duri. Sala, il sindaco Sala non ci sta, il sindaco di Milano non ci sta e d'altronde come potrebbe starci, soltanto poche settimane fa era la guida di un corteo ridicolo qua a Milano per l'accoglienza, che è stato celebrato da tutti i giornali, gli stessi che oggi celebrano il blocco, soltanto poche settimane fa celebravano Sala e quella ridicola manifestazione sull'accoglienza come se Milano non fosse accogliente, come se ci voresse più accoglienza, ce ne vuole meno di accoglienza, nel senso che abbiamo troppa gente che vuole vivere in questo paese, è talmente banale da pensare che si poteva pensare anche quando facevano la ridicola manifestazione di Milano. Ma Sala oggi lo legge emite su tutti i giornali, si sgancia da Renzi e della posizione dura nei confronti di questo blocco navale perché dice come cavolo faccio io dopo solo poche settimane a pensarla diversamente rispetto a quello che ho raccontato appunto durante le manifestazioni. Oggi in prima pagina sul sole, scusatemi, sulla stampa, Gianni Riotta, oggi c'è un mal di gola pazzesco quindi sono un po' più breve, Gianni Riotta, lo dico senza ironia, il coraggio di dire lo you solely rafforzerà l'Italia, io penso che sia una minchiata ma questo non conta sul fatto che comunque il giornalista ha le sue opinioni e le esprime sul suo giornale raccontando del fatto che lui, i suoi figli che mangiano la mortadella in America hanno la forza di essere americani ma con la cultura italiana un po' come i figli di Guitelese, di un grande scrittore americano. Devo dire che la differenza tra il figlio dell'immigrato miliardario, in senso diciamo africano, Riotta e quello di immigrati che vengono qua in Europa senza arte né parte se non la loro voglia di scappare dalla miseria economica del loro paese dà il senso della incapacità di capire quello che sta avvenendo forse a Gianni Riotta, non sono i figli di un inviato della stampa, da un direttore del Corriere della Sera, di un direttore del Sole 24 Ore che portano le loro culture in America, che l'arricchiscono. Quella li vorremmo tutti noi, i figli di Riotta come immigrati, i figli di tanti Riotta come immigrati, cioè quel melting pot americano, è un po' diverso rispetto a quello che potrebbe e sta avvenendo in Europa. Non sono migliaia di figli di Riotta che stanno arrivando qua, ma è una cosa drammaticamente diversa, penso. George Pelle, la notizia di giornata di tutti quanti i giornali, è il cardinale dei cardinali, conservatore, non amato dalla curia romana, ma soprattutto da quella progressista che piace tanto a Papa Francesco, è stato indagato in Australia per fatti che risalivano agli anni 70 di sue coperture e tre casi di possibili abusi sessuali. Mai mi permetterò di entrare su questa vicenda che conosco molto poco, vi segnalo l'anima giustizialista di Repubblica, a cui questo uomo non è mai piaciuto questo Pelle, è l'uomo delle finanze del Vaticano, l'uomo che ha scelto Papa Bergoglio perché è l'uomo che stava mettendo in ordine le finanze del Vaticano, che è un casino pazzesco. Beh, comunque, come si dice, George Pelle è difeso soltanto, secondo me, in maniera interessante da Giuliano Ferrara, che ne parla oggi, se avete voglia, sul foglio. Indice è stato confermato da tre papi, uno diverso dall'altro, Giovanni Paolo II, Papa Bergoglio, Papa Ratzinger e Papa Bergoglio, tutti questi tre hanno profili diversi e più o meno io mi fido più di questi tre papi che della giustizia a 50 anni che cerca di riaprire un caso. Insomma, è scritto bene, l'ho capito anche oggi il pezzo di Ferrara, se volete leggetelo, se volete avere un'idea un po' diversa rispetto a quello che hanno scritto tutti gli altri giornali. Mi fa veramente ridere, sono due temi economici e bellissimi. C'è un'intervista al Cavaliere Berlusconi, oggi, insomma, l'intervista al Cavaliere, l'intervista a Berlusconi sul Corriere della Sera, l'intervista è lunga, i messaggi sono tanti, le novità pochissime. Ripartire dal sistema tedesco, dice, quindi diventa proporzionalista a Berlusconi, l'uomo che si era inventato il bipolarismo, dice che guiderà la campagna elettorale, vuole la flat tax, cita l'Istituto Bruno Leoni, e dice l'unica cosa divertente, non riesco a capire molto pronto, non gli è bastato essere umiliato già tre volte dai suoi. Questo per quanto riguarda l'intervista del Cavaliere. Due notizie economiche e poi vi lascio. IRPEF regionale, molto interessante il pezzo di Dario Di Vigo, che ci dice che c'è un'imposta nascosta di cui noi non ci occupiamo, e cioè quella tassa che io vado a pagare, perché lo pagherò oggi, che è l'imposta, l'alliquota regionale sui nostri redditi, perché noi abbiamo fatto, dice giustamente Dario Di Vigo sul Corriere della Sera, le battaglie con l'IRAP, le battaglie sul aumento dell'IVA, eccetera, ne sapete quanto è aumentata questa IRPEF, questa piccola aliquota regionale, ma che pesa negli ultimi anni, è cresciuta il 59% in 10 anni. Cambia da regione a regione, da qualche parte è cresciuta moltissimo, da altre a Bolzano niente, anzi è ridotta. È molto divertente invece il tema, perché con questa IRPEF regionale le regioni incassano circa 12 miliardi di euro, soldi nostri che vanno a fine dalle regioni. Le regioni ovviamente aumentano l'IRPEF regionale perché lo Stato gli taglia risorse, quindi lo Stato dice taglio risorse, mantengo le vostre tasse uguali, ma c'è qualcun altro che le alza, a noi cambia poco se l'IRPEF è nazionale o regionale, sempre la dobbiamo pagare, quindi chi se ne fotte che sia regionale? Niente. Il punto vero è che questa IRPEF regionale è aumentata il 60% in 5 anni, 60% mentre stiamo qua a parlare di riduzioni fiscali. Ultima cosa favolosa, si chiama disegno di legge sulla concorrenza. Teoricamente dovrebbe aumentare la concorrenza in questo Paese, cosa buona e giusta per un liberale. Io quello che vedo nel DDL concorrenza, che ci ha messo due anni e mezzo, più o meno per essere approvato e non ancora approvato, non c'è l'ultimo timbro finale del Parlamento, sapete che cosa hanno fatto? Hanno ristabilito dopo 5 anni il tacito consenso, il tacito rinnovo delle polizze assicurative che non riguardino ovviamente l'RC Auto, perciò l'RC Auto non c'è avrà il tacito rinnovo. Tutte le altre polizze, famiglia, casa, salute, eccetera, vengono fatte con il tacito rinnovo. Allora, una cosa soltanto dico alle assicurazioni, non mi prendete per il culo, non mi prendete per i fondelli, perché oggi sui giornali, sulle 24 ore, forse è con Repubblica un po' più critica, leggo che questa cosa è fatta a tutela dei consumatori, cioè il tacito rinnovo delle polizze è fatto a vostra tutela, così non vi dimenticate che si debba rinnovare l'assicurazione. Mandateli 10 mail, mandateli 10 sms, chiamateli come comunemente fate violando la nostra privacy, ma non mi spiegate che se io mi dimentico di rinnovare la polizza, voi me la rinnovate per me, questo è un mio vantaggio, lo sa anche mio figlio di 10 anni che questo non è un vantaggio, ma è un vantaggio per le assicurazioni, mettiamola così, che è un vantaggio per le assicurazioni nel DDL concorrenza. Complimenti, ma è la presa per il culo che mi fa arrabbiare, io sto pure per l'industria, voglio pure stare, figuratevi voi se voglio fare il rompitutto, ma non mi si dica che a mia tutela qualche, non voglio essere tutelato, non voglio essere tutelato, mettiamola così, vabbè, con questo chiudo, vi do appuntamento questa sera, se c'è qualcuno alla presentazione del mio libro sul Garda, o più, secondo me facilmente, domani con la zuppa di porro. Ciao!